Il numero 10, Gisgaard! Il 13, Alessio! Con il numero 18, il capitano, Riccardo! Il numero 19, Bayer! Con il numero 20, Ignazio! Con il numero 27, Yuray! Con il numero 28, Giacke! Con il numero 31, Luka! Con il numero 33, Dias da Costa! E con il numero 70, Carlo! Adismo vittuale del Milan! Con il numero 32, Cristian! Con il numero 97, Alessandro! Con il numero 2, Mattia! Con il numero 4, Josef! E con il numero 7, Jeremy! Con il numero 16, Andrea! Con il numero 17, Cristian! Con il numero 25, Stefan! E con il numero 45, Mario! Con il numero 72, Bruce! Con il numero 91, Andrea! Con il numero 97, Davide! Arbitrante, Silvio! Arbitrante, in tempo, Antonio Lamato di Balletta, assistenti di Liberatore, Domuz, assistenti di Porta, Marzoleni e Camarese! Benvenuti, nella casa delle Bambini e Camarese!